Salve a tutti e bentornati. Oggi commenteremo una partita finita ieri allo stadio Marcantonio Bentecodi di Verana tra Chievo e Pescara finita appunto 3 a 1. Allora, il Chievo si presentava con il solito 4-4-2, Semper, Mogos, Rigione, Le Verbe e Renzetti, Ciciretti, Palmiero, Viviani, Gheritano, Maggiotta e De Luca. Ecco, invece il Pescara si presentava con 4-3-2-1, Fiorillo, Balsano, Sorensen, Bocchetti, Masciangelo, Omeonga, Valdifiori, Rigoni, Mancini, Maestro e Odgerde. E allora, la partita si vede già che è intensa, già dai primi minuti e già al quinto minuto si sblocca con una rete per noi, per il Chievo, di Palmiero. Un'azione veramente costruita in modo sublime, direi quasi perfetto, in cui appunto Maggiotta-Cross, Gheritano tiene la palla e alla fine la passa a Palmiero che poi segna di prima intenzione sull'angolo basso. Il Pescara non è che sta a riaguardare, infatti al settimo minuto ha un'azione importante con un palo di Odgerde, che mi sembra anche il nuovo acquisto del Pescara, il nuovo attaccante acquisto del Pescara. A quel punto comunque si vede che il Pescara vuole trovare il pareggio, si vede che comunque noi soffriamo fisicamente, anche probabilmente per il recupero col Cittadella. E infatti dopo vari minuti, il ventiquattresimo, Maestro segna la rete dell'1-1, veramente un bel gol, un gol di destro a giro sul palo e sempre può fare ben poco. Poi in realtà non ci sono altre azioni salienti nel primo tempo, nel secondo tempo si parte subito, cioè si parte subito in modo abbastanza veramente scoppiettante quasi direi, con un altro euro-goal, ma in questo caso per noi di Mogos, che tira un destro al limite, che beffa Fiorillo, mamma mia che gol, che gol, un gol di potenza. Poi comunque iniziano le varie sostituzioni, soprattutto nel Pescara, perché comunque in quel momento il pareggio forse era il risultato anche più giusto e corretto. A sessantatresimo il Pescara ha un'altra azione di Macinne, che trova Busellato, che si trova a tu per tu con Semper, però spara sull'esterno, cioè tira sull'esterno della rete. A quel punto poi anche il Chievo fa i suoi cambi per dare energia ai valli da parte, infatti entra Obi ed esce Palmiero, ed entra anche Fabbro ed esce Magiotta. A settantatresimo De Luca chiude definitivamente i conti della partita, anche questo è un bel tiro, comunque principalmente, anzi no, a settantatresimo c'è un'azione del Pescara. C'è un'azione del Pescara di Busellato che tira di piatto di destro e sempre di sintoppare. Il gol del Chievo arriverà soltanto sei minuti dopo al settantaseiesimo con una rete di De Luca, lancio di Mogos per De Luca. De Luca che sfrutta una mancata copertura di Rigoni, entra in area e segna il 3-1 che di fatto chiude la partita. A settantatquattresimo poi due minuti prima del gol viene anche munito Viviani, poi a settantanavesimo viene munito Bucchetti. Poi all'ottantaseiesimo il Pescara ha un'altra azione con un traversone di inzita e un tiro di testa di Odgaard che esce fuori di poco e poi finì. E poi anzi, poi al novantesimo più due c'è anche un'altra azione del Chievo con un lancio di Mogos che trova impreparata la difesa del Pescara. E Fabro tira e sfiora il primo palo e poi finisce al novantesimo più cinque la partita. Questa partita a me è piaciuta anche molto, era una partita che comunque, come anche quella col Cittadella, abbiamo giocato bene in entrambi i tempi. Probabilmente nel primo tempo abbiamo giocato in modo abbastanza assento, comunque faticando anche per la forma fisica sicuramente peggiore rispetto a quella del Pescara per i primi 25 minuti. Poi dopo il gol di Maestro comunque il Chievo è riuscito a reagire e a tenere almeno fisicamente e anche difensivamente. Nel secondo tempo poi la rete di Mogos diventa decisiva perché già partire subito con gol di vantaggio ti rende più facile la partita sicuramente. Poi sicuramente il Pescara con Busellato ha sprecato almeno due azioni golle che avrebbero potuto decretare il 2-2. Però alla fine queste occasioni sprecate dal Pescara sono costate caro gli abruzzesi e noi siamo riusciti a concretizzare di più. E con De Luca abbiamo chiuso a partita, probabilmente partita da grande squadra direi anche perché abbiamo sofferto ma sia stati cinici, seconda partita in cui siamo cinici. E quindi ci sono poche critiche da fare a questa squadra perché avevamo anche la stanchezza del turno infrasettimanale contro il Cittadella, del recupero contro il Cittadella e fare una buona partita contro il Pescara che sarà ultimo quanto volete. Ma secondo me le squadre ultime, penultime comunque, che stanno lottando per la salvezza possono essere molto più insidiose anche di squadre di alta vetta o di alta classifica perché sono squadre che in ogni match lottano per portare qualche punto a casa. Il Pescara ci ha provato, purtroppo per loro ha mancato di cinicità e finalizzazione, cosa che invece noi abbiamo avuto oggi. Quindi sono contenta per la partita di oggi. Le uniche bocciature, se così le possiamo chiamare, sono di Ciciretti che è comunque un po' sotto tono. De Luca e Maggiota comunque ha lavorato bene, anche il centrocampo ha lavorato bene. E vabbè, sempre non poteva far molto sul primo golle. E poi comunque l'unica nota veramente negativa è quella di Le Verbe. Le Verbe, dall'inizio di questa stagione rispetto alla scorsa ha avuto un'involuzione importante, un'involuzione quasi incredibile. Ormai è un giocatore insicuro che non marca, che lascia liberi gli avversari perché Maestro è stato lasciato libero dalle Verbe, che è stato fermo al posto di cercare di marcare Maestro. E quindi involuzione incredibile, non mi spiega il perché, forse per insicurezza, non so perché, però sicuramente pensare che quest'estate c'era un'offerta del Sassuolo di 4 milioni per prenderlo, sicuramente per come aveva giocato la scorsa stagione era da bucciare categoricamente, ma per vedere l'involuzione che poi sta avendo in questa stagione, col senno di poi avrei filmato a mani basse. Però comunque va bene così. Va bene così, altri tre punti importanti. E vedremo come la partita contro la salernità diretta concorrente, intanto anche il pareggio tra Spalle e Monza e tra Cremonese e Cittadella ci avvantaggiano. E vedremo alla prossima e comunque se continuiamo così con questa concentrazione potremo toglierci grandi soddisfazioni. Aglietti sta facendo un gran lavoro.